Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, Getafe Atletico Madrid e si riparte con il campionato Altra partita da vincere, questa ragazzi è assolutamente una contro il Getafe Possiamo fare il risultato, andiamo a giocare al massimo delle nostre possibilità Vai Fioi E si parte Godin, El Godi, per El Koke, per El Antoine Antoine, Antoine Simbora, Antoine Simbora, splendido, splendente, Antoine, splendido, splendente Attenzione Gol del Getafe, incredibile, gol del Getafe Al primo tiro segnala il Getafe, don't note parole veramente Antoine, Antoine, deve subito rispondere l'Atletico Antoine incazzato nero Ma porca puttina Bravissimo Timo Timo vediamo, Antoine Antoine per Kane Kane a Toure Toure a Juanfran Juanfran sbaglia tutto Brutto gol subito questo, brutto gol subito Oh c'ho Oh c'ho ragazzi, oh c'ho 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 2 a 0 del Getafe Incredibile Sanabria Henry Kane La situazione è abbastanza disperata purtroppo Henry Kane Per Antoine Timo 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 entra in area Rigore Calcio di rigore Calcio di rigore per l'Atletico Incredibile Atterrato Timo Grandissimo Timo Ia iaturi ti prego 2 a 1 ti prego 2 a 1 2 a 1 Ture accorcia le distanze Ia iaturi Mamma che partita Ma grandissimo l'azione del Timo Questa volta non l'abbiamo fatto a tirare Juanfran La porta Goresca appena entrato Vai Goresca Vai piccolo Gori Vai piccolo Gori Vai piccolo Gori E il piccolo Gori fa il miracolo Il piccolo Gori ce ne va Il piccolo Gori Non ci credo Non ci credo Che erroraccio Mamma mia Mamma mia Speravo nel fallo Ma vai a fare in culo Va Juanfran Juanfran Vede Antoine Antoine Per Goresca Ancora Kane Ancora il Gori Ancora il Gori Attenzione Fuori gioco di Mandzukic Eh ho paura di sì Non è gol È gol Sembrava fuori gioco Gol di Marione 3 a 2 Scusate ho sentito il fisco del fuori gioco Non so il perché Gol di Mandzukic Gol di Marione Elevantesimo Appena entrato Me la sta regalando Che rimonta Che rimonta Stiamo attenti Ero convinto Non so il perché Ho sentito un fischio Non ci voglio credere Tu re Tu re Ti prego fischia arbitro Andiamo a casa Peppe Andiamo a casa Peppe Non ci credo Non sembrava neanche Urlare da morire Invece sono rimasto Che cazzo Abbiamo vinto Non ho capito neanche il perché Mamma mia Che culo Che culo 3 a 2 Attenzione Bebè 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 Gol di Bebè Gol di Bebè Incredibile Gol di Bebè Un bambino segno Mandzukic 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 Subito Bebè Unisce tutti Bebè Ma Mandzukic Subito Mandzukic Non ci credo Perché potevo subito pareggiarla Antoine 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 No Cosa ha fatto Antoine 71esimo pareggio dell'Atletico Noi siamo la squadra dell'Erimonte Noi siamo la squadra dell'Erimonte Ma questo è un gol Devastante ragazzi Devastante Mamma mia Che gol di Antoine Rivediamo il replay Perché è micidiale Un sinistro perfetto Nulla da fare per il portiere Quinto gol E la Liga per Antoine 1 a 1 Esplode il Vicente Calderon E se dobbiamo cercare di vincere anche questa ragazzi La dobbiamo vincere per i nostri tifosi E per la classifica Che dopo i due anni grandiosi di Liverpool Ha vinto due lighe C'è due lighe Due premier Voglio vincere anche in Liga Voglio diventare il murino della situazione Attenzione Touré Touré si rivistende Touré grandissimo Iaia Iaia Bravo Iaia Touré Prova il tiro Deviazione fuori Mamma cosa ci stava regalando Touré La quarta remontata Attenzione di testa qualcuno Di testa fuori Mamma che assedio Ci svegliamo troppo tardi Però ci svegliamo troppo tardi ragazzi Troppo troppo tardi E questa è una cosa molto grave Timo Timo vede Touran Touran per Goretzka Goretzka Juanfran Touran Timo Vai Timo E Timo se ne va Timo se ne va E Timo fa cacare Vai Touran Antoine 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 Per Werner Ancora la sbaglia E oggi non ha giocato Gran che bene Sono ancora giovani Certo Brutto passaggio Questo è veramente orrendo Touré Ormai è finita questa È Pareggio Vai Pareggios Avevo forse una mezza occasione Antoine Vedi Touré 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 Griezmann Antoine Lo ci credo Mi stavano regalando il sogno Finisce qua Uno va bene Siamo la classifica Comunque Quattro punti Potevano essere anche zero Mamma mia Che fatica però In casa Facciamo una fatica Vediamo la classifica La classifica Dice l'Atletico A 16 punti Meno 10 Da Sociedad Che sta dominando Va bene Piano piano Andiamo in rimonta Da tanti pareggi Però purtroppo Un saluto del cumendone Veneziano Ciao Ciao